Gentili telespettatori, buona giornata. Secondo un dossier che arriva dagli Stati Uniti, Luigi Di Maio sarebbe l'uomo di Pechino. Gli Stati Uniti non hanno dubbi, è lui, Luigi Di Maio, è l'uomo di Pechino in Italia. E questa è la conclusione a cui è arrivato il congresso degli Stati Uniti in un documento ufficiale sulla Cina datato dicembre 2020. Alla base alcune circostanze che hanno visto l'attuale ministro degli esteri protagonista dal mancato blitz del governo di Conte sulla tecnologia 5G che grillini volevano dare a Wei fino alla gestione della pandemia di Covid-19. Non è, si spiega il giornale, un caso che il 18 settembre del 2018 l'ex grillino si presentò nel Siquan accompagnato dall'ambasciatore Ettore Sequi. Via della seta è una grandissima occasione commerciale per le nostre imprese e per tutti noi, in cui ho creduto dal primo viaggio in Cina, aveva ribadito. Serve uno scatto di solidarietà verso la Cina. Per questo nel report si legge chiaro e tondo il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha pianificato l'ingresso dell'Italia nella via della seta, definita BRI, Belt and Road Initiative, è chiaramente predisposto a favorire la Cina mettendo in luce gli arrivi di aiuto dalla Cina, non quelli degli Stati Uniti, alimentando la percezione che solo la Cina l'abbia effettivamente fatto. Lo stesso report ha notato la vicinanza tra Di Maio e la Cina, dice Le foto opportunity sono propaganda e disinformazione, un metodo consolidato per riscrivere la narrazione del virus. Anche in Italia l'allarme dilagò con il COPASIR, il Comitato per la Sicurezza Parlamentare della Repubblica, che si disse preoccupato per Huawei e i 5G. In quel caso Di Maio rispose che aveva rassicurato Washington, ma il segretario di Stato Mike Pompeo lo smentì in fretta. La Cina ha un approccio predatorio e rappresenta una minaccia comune per i nostri paesi. Cosa che ovviamente Gigino Di Maio o Grande non ha ben capito come funziona la geopolitica, come funziona la propaganda. A volte sembra tutto normale, invece ci sono delle tecniche di propaganda e di penetrazione negli altri paesi. Questo è per spiegarvi ancora una volta, o meglio per dirvi la mia opinione ancora una volta. In realtà spiego solo all'università, qui dico la mia opinione, non mi permetto di spiegare niente. Che ovviamente l'essere inesperti, essere politici per caso, è assolutamente un danno per il paese. Il politico per caso che abbiamo visto in questi anni con l'avvento del Movimento 5 Stelle ci ha dimostrato che anche se le persone hanno una grande volontà di fare qualcosa, buona volontà, impegno, i risultati non derivano da quante ore o dall'impegno che ci metti nel lavoro, ma derivano dalle tue esperienze pregresse. Ecco, l'inesperienza in politica è solo un danno di tutti i tipi, economico, di immagine, di tutti i tipi. Quindi, pertanto vi esorto e alle prossime elezioni, prima di tutto di andare a votare, e poi di pensare bene a chi state dando il voto, a chi state per dare il voto. Perché è importante, per i prossimi cinque anni potremmo essere governati da persone come Di Maio, ecco, Toninelli, DJ Fofò, eccetera, eccetera, l'Azzolina, la Trenta. Abbiamo lasciato per anni in mano il paese a persone senza né arte né parte, senza esperienze, senza sapere nulla di quello che sia la politica, l'economia, la società, un ministero. E questo è provocato un danno. Guardate anche la Raggi a Roma, che arriva con i titoli su tutti i giornali del mondo, il vento del cambiamento, la sindaca, che ha fatto niente, la situazione è peggiorata a Roma, perché si è trovata di fronte in una situazione piena di squali. Eh sì. Quindi, con tutta la buona volontà che ci ha messo anche la Raggi, il risultato è stato che la situazione a Roma è peggiorata. Non migliorata, ma addirittura peggiorata. I grillini che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, la casta, sono diventati loro la casta, sono diventati loro i più grandi poltronari della storia della Repubblica, attaccati alle poltrone, allo stipendio, quelli che dicevano onestà, onestà, e poi nell'elezione del capo politico hanno falsificato i voti e Di Battista, che sarebbe stato lui il designato, quello che ha avuto più voti, è stata modificata, è stato fatto saltare fuori Giuseppe Conte. Quindi, anche sull'onestà non ci siamo. Ricordiamocelo alle prossime lezioni. Prima di votare, pensate che il politico per caso porta un danno al Paese, l'unico vantaggio che porta il classico politico per caso è solo un vantaggio economico al suo portafoglio. Ricordatevi sempre che l'Italia è una Repubblica fondata sul mutuo del parlamentare. Sto scrivendo adesso un libro. Fino adesso ho scritto libri di storia, libri di grammatica, un libro su come guadagnare su YouTube. Questo è il primo libro che scrivo di politica su una pagina 70 in una settimana. Lo sto facendo molto più veloce degli altri perché mi interessa più degli altri un libro di politica e lo trovate. Poi ancora non c'è, ci sono gli altri miei libri. Però gli altri miei libri, se volete, li trovate nelle informazioni del canale. C'è un link, i miei libri, che vi rimanda nel posto dove si vendono questi libri. Ho messo dei prezzi più bassi possibile, perché stabilisco io il prezzo, c'è il costo di produzione, poi c'è il margine. Il margine è proprio risicato, realmente, se no i prezzi diventavano troppo alti. In alcuni libri ho preferito mettere le foto in bianco e nero, non a colore, perché se no il prezzo del libro si disparavano troppo. Comunque, se vi interessano i miei libri, li trovate lì. Per il resto c'è anche Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie e di fai-da-te. E ricordatevi che poi anche su Facebook c'è Teleitalia, dove potete questi video condividerli anche in rete, dove volete condividete i miei video, non c'è nessun problema. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.